Il Dipartimento di Prevenzione, Servizio, Igiene e Sanità Pubblica dell'ASRA di Salerno ha previsto per il giorno 17 maggio, a partire dalle ore 23.30, il trattamento di disinfestazione adulticida sul territorio comunale di Agropoli. L'intervento sarà effettuato da personale specializzato con l'ausilio di automezzi e attrezzature idonee. I prodotti utilizzati, registrati e autorizzati dal Ministero della Salute sono a base di perietroidi di sintesi in formulazioni a basso impatto ambientale. La cittadinanza è invitata a partecipare, evitando l'esposizione all'aperto di alimenti ed indumenti, mettendo a riparo animali domestici e di compagnia, chiudendo le finestre di balconi durante l'esecuzione dell'intervento, lavando accuratamente frutta e verdura eventualmente coltivata in orti e giardini nel centro urbano.